birrificio lambrati ha vinto tantissimi premi ieri ci dite qualcosa sulle vostre birre quello che vuoi guarda abbiamo vinto sì cinque premi in due primi posti un secondo posto per la tutte le tale birrassolte con la magut e i due terzi posti che dire contenti contentissimi il discorso della produzione noi facciamo tendiamo a far birre non estreme in tutti i sensi di conto lo porta a casa un buon riscontro sia dalla giuria che dal pubblico e questo certo gran gioia tra l'altro noi sappiamo che voi avete non solo il birrificio ma anche i locali sì adesso sono due purtroppo tra virgolette perché un impegno bestiale però sì la roba la roba importante bella che la produzione sta andando bene sempre l'incremento tutti gli anni quest'anno abbiamo toccato i 400 e passa mila di tre prodotti in un anno e siamo veramente contenti del lavoro che stiamo stiamo mandando avanti facendoti complimenti per i riscontri ci vediamo nei vostri locali a milano salute grazie mille grazie ciao 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 ciao